Fine della corsa per Gigi riservato. Il sindaco di Trani ieri in tarda serrata ha rassegnato le dimissioni, poche ore dopo che il Tribunale di Bari aveva rigettato l'istanza di scarcerazione e confermato i domiciliari per il primo cittadino tranese. Il Tribunale del Riesame ha invece accettato le richieste di spostamento dal carcere ai domiciliari per gli altri tre arrestati, Di Marzio, Musci e Damascelli, all'interno dell'inchiesta Sistema Trani. Eletto al ballottaggio nel giugno del 2012, riservato ha guidato la città di Trani tra alti e bassi per circa 30 mesi, tra crisi di maggioranza e situazioni poco stabili, fino all'inchiesta Sistema Trani e all'arresto ai domiciliari dello scorso 20 dicembre che di fatto ne hanno decretato la fine anticipata. Ad onor del vero, la legge consentirebbe nei prossimi 20 giorni al primo cittadino di ritirare le dimissioni, ma vista la situazione venutasi a creare a Trani, quest'ipotesi appare assai surreale. Alcuni consiglieri di centrodestra avevano provato ad incontrarsi già lunedì sera per capire se dimettersi o meno e sciogliere anticipatamente il Consiglio Comunale. Le dimissioni di riservato hanno tagliato la testa al toro e permetteranno alla città di Trani di andare ad elezioni nella prossima primavera in contemporanea con le regionali. Nel frattempo, otto consiglieri di centrosinistra si sono dimessi questa mattina, lanciando un segnale forte anche in ottica elezioni.